quando si parla d'autismo spesso si pensa soltanto a bambini però l'autismo è una condizione che accompagna la vita di una persona quindi si cambia ma la difficoltà può rimanere anche se prende un'altra forma ora le persone hanno un disturbo autistico hanno bisogno di diventare sempre più brave di imparare a affrontare situazioni più complicate e lo possono fare soltanto se dentro queste situazioni ci possono stare dentro questo vuol dire anche che la nostra società la nostra comunità deve diventare capace di essere più amica delle persone con autismo e questo è il significato del progetto autist friendly